Una prima cosa da aggiungere a quanto abbiamo già visto la volta scorsa è che concatenare diverse richieste di fetch non crea alcun problema. Facciamo un esempio, se questa prima fetch invece di andare a recuperare i dati dei fumetti recuperasse l'elenco delle regioni di una certa nazione, potremmo essere poi interessati a richiedere in cascata per la prima regione l'elenco delle sue città. Una prima fetch fornirebbe a questo livello, nei dati ricevuti, l'elenco delle regioni. Qua, magari commento questo, andremo a restituire un'altra fetch, o meglio la promise restituita da questa fetch, dove chiaramente la URL sarebbe composta in modo tale da ottenere quello che ci serve, l'elenco delle città di quella regione. E andremo a concatenare qua altri due den, che esattamente organizzati con la stessa logica dei precedenti, come se qua stessimo gestendo la prima fetch non cambierebbe nulla. E rispetto a quello che chiamavano l'inferno delle callback, callback hell, che andava a creare a livello di indentazione una serie di chiamate le une annidate dentro le altre, rendendo tutto molto difficile da leggere, da debuggare, quindi da dominare, qui abbiamo una linearità, potremmo anche concatenare dieci operazioni fetch, ciascuna dalle quali dipende dalla precedente, ma non aggiunge difficoltà di struttura, allunga soltanto il numero dei .den, .den che andremmo a impilare l'uno sotto l'altro. E tutto rimarrebbe tutto sommato ben leggibile e quindi poi più facilmente modificabile e manutenibile. Completiamo allora l'esempio. Basta aggiungere all'endpoint che si fermava AV1 per ottenere l'elenco di tutti i fumetti, il nome, la name name di uno di questi, diciamo Bleach che è il primo di quelli che abbiamo ricevuto, restituiamo perciò un nuovo promise, l'endpoint lo completiamo con il nome del primo fumetto, Bleach, nel .den trasformiamo la risposta ottenuta che elengo tutti i fatti che riguardano quel fumetto, quella name, e nel .den successivo otterremo, si può sempre avere una preview inserendo direttamente in un browser l'endpoint e vedere qual è il risultato, questo data, il solito array, qua i fatti che riguardano quella name. Andiamo ad aggiungerli tutti in questo nuovo div, agganciamo l'array che ci interessa, il suo nome era data, l'avete appena visto, su quello comandiamo un foreach, e per ogni fatto che è un obj con due chiavi, questo è l'array data, e ciascun elemento è un oggetto con chiave fact-id, che non ci interessa, e il fact la stringa che descrive appunto quel fatto, quella conoscenza sul fumetto, aggiungiamo l'aldiv con il metodo che abbiamo esaminato nei video dedicati alla manipolazione sul DOM, insert adiacent html prima della fine del div, quindi le metteremo in pratica in quell'ordine, uno sotto l'altro, il value associato all'elemento con chiave fact, quindi ancora punto fact. Separiamo le descrizioni con un paio di br e il risultato è questo. Fino ad ora è andato tutto meravigliosemente bene, ma nella realtà possono capitare anche degli inghippi, prendiamo ad esempio un calo improvviso della banda disponibile, o addirittura un'interruzione del collegamento a internet, che potrebbe portare addirittura al fallimento della richiesta di fetch, cioè farla arrivare allo stato di rejected. Vediamo come intercettare questo stato e gestire l'errore. Per prima cosa voglio avere la fetch a comando con un bottone, perché l'idea sarebbe far partire la pagina con internet, in modo che il browser non dia errori di internet assente, poi simulare, si può simulare il distacco della rete con gli strumenti di sviluppo del browser, fare clic sul bottone e a quel punto la fetch dovrebbe fallire. Beh, basta aggiungere intanto qua l'intestazione, le graffie inizio e fine, abbiamo già la nostra funzione pronta all'uso, poi il bottone per comandare la fetch, l'id comanda fetch, predisponiamo il clic a richiamare appunto quella funzione. Giustamente alla partenza della pagina, qua non abbiamo l'immagine se non in suo placeholder, facciamo partire la fetch, ok. Adesso, prima di far partire la fetch, andando qua sotto rete, clicca su questo controllo per attivare altre opzioni, quel condizioni di rete lì sotto che è comparso, limitazione della lunghezza di banda, potete simulare diverse situazioni, internet lento, veloce o addirittura offline. Non abbiamo fisicamente tolto quindi la connessione, ma per il browser è come se lo fosse, al che la fetch dovrebbe essere rifiutata, rejected. Ce lo conferma il messaggio d'errore. Errore encode, cioè non intercettato, fail to fetch. E abbiamo, della verità, due modi per indirizzare questo errore. Uno localizzato nel punto in cui si verifica, che però poi ci costringerebbe a ripetere se abbiamo più fetch concatenate questa intercettazione, oppure un'intercettazione a livello globale. Un punto che intercetta tutti i possibili errori. Partiamo con l'intercettazione puntuale. Avevo già accennato al fatto che nel DEN avremmo potuto indicare fino a due callback. La prima è quando si registra un successo e la seconda, quando invece abbiamo un fallimento, un rejected. Attenzione che il rejected, poi lo verifichiamo insieme, si verifica solo quando viene a mancare proprio la connessione. Per gestire altri tipi di errori, poi vi spiego come si potrebbe fare. Virgola. E qui stiamo pure sul breve, usando la funzione freccia. Come la funzione per il successo, fulfilled, riceve in automatico un parametro, quella risposta server, anche qua la stessa cosa, solo che il pacchetto dati conterà informazioni sull'errore. Quindi abbiamo un errore e potremmo limitarci al solito console.log. Così, chiaro che qua potremmo sostituire una funzione articolata, complessa, quanto volete. Facciamo allora ripartire la pagina e tentiamo di far partire la fetch. Il messaggio in blu ci conferma che abbiamo intercettato l'errore di connessione. Ma a meno che le condizioni condizioni siano tali da non propagare poi in cascata il meccanismo dell'epremise, qua sotto ne abbiamo degli altri. In particolare abbiamo un problema qui. Perché non c'erebbe nessun data zero da consumare. Quindi l'errore di fatto ci avremo anche qui e qui. Ma poi potenzialmente anche negli altri den. Ora, è vero che potremmo andare in tutti i punti del codice a gestire, ad esempio qua potremmo andare a controllare un po' com'è sto dati ricevuti e scopriremo che se la fetch fallisce è uguale a undefined, gestire, non so, lì localmente l'errore o sollevare con un true un errore. Ecco perché spesso conviene passare alla modalità centralizzata, a meno che la fetch di quelle semplicine fetch, den, den, finito. Andare dopo l'ultimo den e aggiungere jolly piglia tutto, catch. E qua la funzione che gestisce l'errore poi deciderete voi quanto essere granulari nel gestire la cosa. Adesso qua rimarebbe ancora questo e questi altri verrebbero catturati dal catch. Molto più pulito, no? Così. È indubbio. Addirittura potremmo anche togliere il primo, eh? Perché verrebbe inglobato nel catch. Di qua potremmo addirittura a togliere questa parte facciamo così. Voilà. Infine, parafrasando proprio il metodo che andremo a concatenare abbiamo anche un finally. Finally andrà ad eseguire la funzione indicata sempre sia con la promise fulfilled successo che rejected fallimento. fallimento e io sono sempre eseguita rimetto internet tra virgolette nessun errore ma il finally lancio comunque la sua funzione. Direi comodo per operazioni di pulizia rilascio di risorse che vogliamo essere comunque certi di non dimenticarci. Adesso che avete le idee spero abbastanza chiare sull'argomento potreste andare in dettaglio sulla documentazione ufficiale della Mozilla Development Network sotto il capitolo promise trovate le varianti come questo promise.all sono tutte cose abbastanza recenti come standard ECMAScript noi abbiamo visto il caso in cui le promise sono concatenate con tutti i den ma potremmo avere anche delle promise che non sono l'una dipendente dalle altre. Questo esempio ha creato al volo tre promise lasciate poi perdere come sono un po' simulate promise.all passa l'array potremmo indicare qualunque collezione iterabile della verità però l'array certamente lo è e una specie di den cumulativo cioè quando tutte saranno attenzione tutte questo è il concetto di quel all fulfilled al che verrebbe invocato come al solito la funzione specificata come primo parametro del ten però attenzione siccome qui si parla di promises al plurale il parametro che riceve il den qual il values è in realtà un array con dentro tutti i risultati di tutte le promise basta che una vada male e la funzione successo non sarà richiamata dovremmo gestire l'errore e la funzione d'errore richiamata che qui non è stata indicata riceverebbe un unico parametro che è corrispondente come informazioni sull'errore intendo alla prima delle promise che è fallita simile ma logica invertita diciamo any qua passiamo una collezione di promises e la prima promise che viene completata scatta il den ovviamente il den riceverà i dati di quella che è stata completata per prima all settled questo qua dice guarda quando sono tutte o fulfilled o rejected non mi interessa ma diciamo completate parte la funzione per il successo del den che riceverà l'array con dentro gli oggetti che corrispondono a ciascuna delle risposte e delle varie promises un'osservazione forse finora mi è sfuggita che in pratica gestendo la fetch API stiamo implementando quel meccanismo che forse è più noto come nome come acronimo che è ajax ma penso che alla fine fosse chiaro e siamo all'ultima sfaccettatura che affronto in questo video che è uno dei cosiddetti zuccherini sintattici sintactic sugar per quello che abbiamo già visto è una forma che ci dà l'illusione di usare codice sincrono anche se in realtà stiamo sfruttando i certi meccanismi asincroni della fetch e delle promise sono le due le keyword da gestire async await si parte con una funzione che viene etichettata come asincrona async function con la keyword await si gestisce la stessa cosa che con la forma espansa tradizionale si faceva con fetch e poi i den immediatamente sarà assegnata questa variabile un oggetto response incompleto ma ho detto response non promise la fetch restituisce una promise await fetch già direttamente il response su cui potremmo comandare il json per intenderci così insomma tutto questo è un response ci vogliono le tonde altrimenti tenterebbe applicare json direttamente a fetch json abbiamo già visto restituisce ancora una promise che stiamo restituendo qui e che poi nel flusso principale andremo a gestirci ancora con un den sostanzialmente forse una sincrona den e poi la funzione da richiamare quando la promise sarà stata completata proviamo allora solo con un console log abbiamo ritrovato il nostro elenco dei fumetti e allora qui potremmo andare a sostituire le istruzioni che vanno a piazzare il titolo e l'immagine tanto basta fare un copy and colla da quello che abbiamo già scritto siamo a questo livello però guardate qui già la complessità fetch è tutto semplificato con la sync await prendiamo queste due cose qui piazziamo qui qui è chiamato solo dati dovrebbe essere giusto qui possiamo ancora cesellare qualche cosina trasformarla trasformarla in una funzione freccia ecco vediamo se non ho combinato guai pare di no abbiamo ritrovato il nostro bleach è vero che qua dovremmo aggiungere anche la parte per l'errore ma in effetti sembra quasi che ci dimentichi che si sta in realtà lavorando in modalità asincrona stiamo scrivendo le istruzioni quasi come se fossero in modalità invece sincrona per questo per questo e se vi state chiedendo se non sia possibile fare a meno della function async e cioè direttamente gestirci la wait così e poi usare il then la risposta è una pagina HTML qualunque no lo si potrebbe fare se fosse codice isolato in un modulo un concetto nuovo beh relativamente nuovo mi sembra dalle S6 quindi qualche annetto già ce l'ha sarà uno degli ultimissimi argomenti che andremo a affrontare almeno a livello panoramico insomma come dire che la wait lo possiamo utilizzare soltanto all'interno della funzione async sono legate a filo doppio puntata pesante perché ci voglio far star dentro ancora una cosa l'ultima così chiudiamo l'argomento per me a scuola interessa soprattutto con la fachapi simulare quello che prima facevamo con jQuery che abbiamo o meno l'intenzione sarebbe quella di abbandonarla ma ritrovare lo stesso meccanismo magari scrivendo noi prof una funzioncina che simuli quelle di jQuery e c'è un particolare da gestire per fare un post cioè non leggere come abbiamo fatto fino adesso ma inviare dati come se provenissero da una form HTML a una pagina PHP che poi li usa per tipicamente aggiornare un database MySQL MariaDB quello che volete diciamo che i dati li abbiamo preparati da bravi bambini qui in questo oggetto va bene questo è il punto che è un po' intrigante i dati devono essere preparati è una delle possibilità l'altra è ancora più scomoda dovremmo andare a leggere sulla pagina PHP intendo dal file di input che viene creato quando si ricevono dei dati ma io voglio trovare il meccanismo il più vicino possibile al post insomma tipico con le form creare un oggetto form data poi questo solo perché io sono partito da un obj altrimenti la tetica deve essere diversa insomma mi devo arrivare a poter comandare un append a questo form data e ogni volta una coppia chiave valore e questa è la chiave che poi ci ritroveremmo nell'area associativo dollaro post nella pagina PHP se utilizziamo l'obj possiamo utilizzare il supporto dalla classe object object entries che istituisce un array cioè crea un array in pratica partendo dall'oggetto cliente sul quale puoi chiamare il for each in realtà è un array di array dove ogni elemento è la coppia chiave valore l0 dell'elemento è la chiave id e l1 è il valore associato che è questo 1 forse c'era qualche modo anche più semplice essere un po' stanco magari non ho scelto la strada più lineare più semplice appunto qua ho fatto una stampa che possiamo anche togliere non basta quando si va a comandare la fetch adesso io ho fatto partire un server xamp sul mio pc ho preparato una paginetta questa che simula la ricezione dei dati siccome non apparirebbe la pagina in automatico avrebbe tutto dietro le quinte l'inserimento del record per avere traccia di quello che sta davvero accadendo ho detto beh se la pagina PHP davvero sta ricevendo in dollaro post l'id il cognome e l'età io li vado a registrare su un file che poi vado a vedermi direttamente dalla cartella htdocs e vediamo se dentro mi ritrovo uno fkmuso e 140 età percepita quindi ripeto in questo momento c'è il server locale attivo che andiamo a raggiungere come url con localhost e mi sembra mettetolo l'http questo l'ho aggiunto solo perché lavorando in locale per uno strano baco o un problema tecnico mi sembra noto non verrebbero riconosciute come provenienti dallo stesso dominio le pagine e allora avremmo una barriera dai meccanismi di protezione in pratica la fetch fallirebbe fossimo davvero su internet e poi ve lo mostro invece potremmo togliere questo anzi dovremmo togliere questo mood gli altri due parametri invece sono praticamente standard il metodo post e poi il body cioè il pacchetto dati che stiamo trasferendo che è il form data preparato prima questa è la cartella il file fetch.txt non è ancora stato generato poi non faccio partire la pagina da visit.code perché ho bisogno di passare per il server richiamo localhost scuola la pagina eccola i dati sono stati recuperati e il fetch è stato creato e il contenuto è quello giusto se da una parte l'use request mode no course ci risolve un problema legato alla sicurezza cioè in realtà stiamo abbassando le difese per riuscire a lavorare con localhost ci mette però un bastone tra le ruote nel meccanismo che permetterebbe poi di intercettare con i den una risposta dalla pagina php e nel caso di un'operazione di manipolazione inserimento cancellazione potrebbe essere un messaggio di conferma potrebbe essere un messaggio di errore o cose simili ma quando invece interroghiamo il database lì c'è tutta la parte interessante dell'operazione inviamo i dati per una query ci aspettiamo di vedere restituiti tutti i dati richiesti infatti ci ho provato tentando di aggiustare le cose ma in effetti non è un grosso problema perché poi quello che conta è su reale quindi su un server web davvero su internet e passiamo allora a quel caso questa volta l'indirizzo che mi ha scherato è reale ho caricato le due paginette l'html e la php nella root eccole qui ecco la pagina che si carica correttamente con i dati del fumetto aggiorno la vista in filezilla è comparso anche il fetch la dimensione ci conferma che ci siamo ma soprattutto qua nella console la conferma che il den ha ricevuto la risposta e sono proprio i dati che ho impostato nella pagina php zero messa d'errore e la parte data con la stringa vuoto dati senza senso naturalmente qui online tutto funziona e con questo davvero chiuso a risentirci